La Repubblica del Congo si affida di nuovo a Denis Sassu Nguesso, l'opposizione denuncia Brogli. Secondo il Ministero dell'Interno, Nguesso ha ottenuto un terzo mandato presidenziale con oltre il 60% dei voti. Il leader dell'opposizione, Ghibris Perfeco Lelass, l'ex generale, Jean-Marie Mokoko, rispettivamente il 15% e il 14%. La situazione è tesa a Brazzaville e Pointe Noire, i sostenitori dell'opposizione attendono che i propri candidati pubblichino le proprie cifre. La nuova Costituzione, adottata a novembre, che ha abolito il limite ai mandati del Capo dello Stato, ha permesso a Nguesso di candidarsi. 72 anni, marxista-leninista del Partito del Lavoro congolese, salito al potere con la forza nel 1979. Nguesso vi è rimasto fino al 1992. È stato eletto per la prima volta nel 2002 e poi riconfermato nel 2009.